Oh, buonasera a tutti e rieccoci nuovamente su Cannotv. Oggi, dopo qualche giorno di silenzio, inauguriamo la settimana parlando di cinema e lo facciamo proseguendo quella famosa scia argentiana che stiamo perseguendo già da qualche video a questa parte. Beh, oggi è arrivato il momento di parlare forse del più famoso film di Dario Argento, perlomeno qui in Italia, perché ho scoperto che all'estero parrebbe essere più noto Suspiria, mentre qui da noi la paura ormai ha un solo nome, La tigra dai denti a sciabola. No, in realtà, cos'è La tigra dai denti a sciabola? Perché è un romanzo salgariano? No, in realtà era il primo titolo che avevano pioppato a quello che poi sarebbe divenuto Profondo Rosso. Siamo nel 1975, naturalmente dirigeva Dario Argento, reduce dalla tipico Le Cinque Giornate e, andando ancora più indietro, reduce, naturalmente, dalla prima trilogia zoofila degli animali, l'uccello dalle piume di cristallo, il gatto a nove code e i quattro mosche di veluto grigio, che l'avevano fatto conoscere anche a livello internazionale, visto che il primo film aveva avuto un successo e soprattutto un alto gradimento da parte della critica estera. E quindi nel 1975 Argento, aiutato anche da Bernardino Zapponi, in fase di scrittura, in fase di sceneggiatura, decise appunto di confezionare quello che poi sarebbe diventato forse il suo film più iconico, soprattutto anche per le musiche dei Goblin, il celebre gruppo musicale, qui peraltro alla prima collaborazione con Dario Argento, perché ricordiamo che i primi tre film, appunto le prime tre regie facenti parte della Celebrima Trilogia, erano curate da Ennio Morricone per quanto riguarda le musiche. Le Cinque Giornate era musicato da Giorgio Gaslini, che qui appare nei crediti, anche se in realtà la musica è quasi interamente composta, se non addirittura interamente composta, dai Goblin. Giorgio Gaslini era un compositore, anche piuttosto conosciuto all'epoca, era un jazzista fondamentalmente, e Dario Argento non era molto convinto dalla sua presenza, perché aveva paura insomma che desse al film un'impronta già vecchiotta, gli serviva qualcosa di nuovo, di innovativo, e rimase affascinato da questo giovane emergente, insomma ai tempi gruppo musicale, i Goblin, che in fase di scrittura della musica, che poi è divenuta celebre, insomma non ve la devo descrivere io, che dà il tema principale della colonna sonora, si ispirarono probabilmente in qualche modo alle sonorità della colonna sonora dell'esorcista, se voi andate un po' a confrontare, secondo me c'è qualche analogia. Ad ogni modo, Profondo Rosso inizialmente appunto doveva intitolarsi La Tigre dai denti a sciabola, proseguendo un po' appunto quella fortunata serie di titoli aventi al loro interno dei riferimenti al mondo animale, in qualche modo, che avevano appunto fatto la fortuna di Dario Argento. Si scelse poi di intitolarlo Profondo Rosso, soprattutto in virtù delle tinte scarlatte che in qualche modo dominano la pellicola, soprattutto nella celeberrima sequenza di apertura dove è protagonista questa medium, questa sensitiva, interpretata da Masha Merrill. Ma andiamo con ordine, perché su questo film, e c'è tanto da dire, verrà fuori un video molto confuso e forse a un certo punto potrei farvi qualche spoiler, perché è davvero molto difficile disquisire circa questa pellicola senza farne neppure uno. Naturalmente ve lo segnalerò per tempo e poi insomma è un film anche piuttosto famoso, quindi credo che più o meno tutti quanti abbiano presente l'identità dell'assassino di questo Profondo Rosso. Ma andiamo con ordine. Il protagonista di questa pellicola è un certo Mark Daly, interpretato da David Emmings, attore britannico, qui infatti interpreta un pianista inglese che vive in Italia, non si sa bene la città in cui si è ambientato il film, analogamente a tante altre pellicole di Dario Argento, ma parrebbe forse essere Torino, ecco, perché soprattutto le scene più iconiche, le sequenze più iconiche del film sono appunto girate a Torino in piazza CLN con quella famosa Fontana, oppure a Villa Prescott vicino a Borgopò, dalle parti di Borgopò, insomma ci sono parecchie sequenze ambientate appunto a Torino. Una sera, rincasando, questo pianista si trova insomma ad assistere ad un mostruoso omicidio, praticamente la medium che vive nell'appartamento sotto il suo viene orrendamente, diciamo, giustiziata, diciamo, alla finestra, un omicidio sanguinolento, allora lui naturalmente sale di corsa le scale, si introduce in questo appartamento con l'intento di aiutarla, la trova già morta, però nel particolarissimo corridoio di questo appartamento, nel mentre che lo percorre, nota un certo qualcosa che sul momento gli sfugge, ma che poi scopriremo insomma essere fondamentale per la risoluzione di questa indagine, sì, perché come al solito si apre tutta un'indagine, la polizia naturalmente indaga sull'identità di questo misterioso omicida, nel corso del film insomma avverranno altri delitti in qualche modo collegati a questa questa medium e poi naturalmente si arriverà a scoprire appunto l'identità dell'assassino. C'è un'analogia fin dalla trama con il primo grande film di Dario Argento, L'uccello dalle piume di cristallo, perché fondamentalmente accade la stessa cosa. Nell'uccello dalle piume di cristallo era Tony Musante a notare un particolare che sul momento non si ricordava, particolare su cui poi lui ci pensava lungo tutta la durata del film, salvo poi arrivare a capirlo alla fine mettendo insieme tutti quanti i tasselli. Qui fondamentalmente è la stessa cosa, perché appunto Mark Daly vede qualcosa sul momento che vediamo anche noi spettatori e in virtù di questo io mi sentirei di dire che questo film funziona tanto, ma funziona davvero tanto visto al cinema. Ecco, ai tempi, con la tecnologia dell'epoca, visto al cinema funzionava perché tu sul momento non ci facevi caso a quello che vedevi e naturalmente non avendo un DVD non potevi tornare indietro. Qui invece diciamo che guardandoli in DVD forse perde un po' perché qualcuno può mandare indietro il DVD rivedersi un paio di volte la sequenza e già capisce tutto, insomma, perché vede il particolare in questione. Quindi c'è da dire che un po' il fascino del film dipende un po' dal modo in cui uno lo guarda. Ad ogni modo, io, avendolo già visto più di una volta in realtà in passato, me lo ricordavo davvero poco, l'identità dell'assassino la rimembravo. Quindi questa nuova visione, diciamo, che io ho fatto avendo recuperato da poco il DVD forse non me la sono goduta appieno perché l'identità dell'assassino la conoscevo già in partenza. Ci sono però delle analogie, secondo me, anche con altri film, altre regie precedenti di Dario Argento. Infatti molti tendono a, diciamo, descrivere, ecco, Profondo Rosso come l'assoluto capolavoro di Dario Argento, molti lo considerano qualitativamente superiore e non di poco alla trilogia degli animali, io non saprei se definirlo così superiore perché mi piacciono molto anche le prime tre regie di Dario Argento e noto che questo Profondo Rosso è molto ispirato a quei tre film. Ha fatto storia il personaggio interpretato da Daria Nicolodi che a quei tempi, insomma, era anche compagna di Dario Argento, peraltro c'è una celebrrima sequenza in cui Nicolodi getta nel cestino una foto, a quanto pare, raffigurante Mari Lutolo, che era un'altra attrice dell'epoca, ex compagna di Dario Argento. In realtà si è poi scoperto che quella foto non rappresentava Mari Lutolo, ma un'attrice che le somigliasse. Ad ogni modo, il personaggio di Daria Nicolodi, questa giornalista molto, diciamo, libertina, ecco, molto spregiudicata, ha fatto storia anche per via, diciamo, della bravura, no? Con cui l'attrice appunto interpreta questo personaggio, Argento a un certo punto porta lo spettatore a credere che dietro questi delitti ci possa essere, diciamo, il personaggio della Nicolodi, ecco, quindi succedeva un qualcosa del genere anche nel Gatto a nove code, dove a un certo punto si arrivava in qualche modo a sospettare del personaggio di Katrin Spach, quindi ci sono alcune analogie, alcuni riferimenti. E anche in questo caso compare un certo fantoccio, diciamo, dalle fattezze infantili, che tutto sommato appariva, con qualche modifica naturalmente, anche in quattro mosche di velluto grigio, quindi secondo me qualche analogia con, appunto, con la trilogia degli animali c'è. Argento è un grandissimo conoscitore di cinema e anche in questo caso non manca di farlo notare. C'è una bellissima sequenza dove una, insomma, una sequenza di omicidio che mi ha ricordato molto la, una, diciamo, alcune atmosfere dei tre volti della paura, diretto da Mario Bava, ecco, uno dei grandi maestri effettivamente del cinema di genere italiano, nonché una delle maggiori fonti ispiratrici di Argento. Argento arriverà ad ispirarsi a Bava soprattutto nella successiva regia, ovvero Suspiria. E qui devo entrare nello spoiler, per cui, insomma, diciamo, è avvisato, ecco, chi non ha visto ancora il film è avvisato. Il colpevole di questo film, io ve l'ho detto che facevo spoiler, è Clara Calamai, che interpreta qui una vecchia attrice. Clara Calamai era, è stata un'attrice, insomma, attiva nel ventennio fascista, ma anche nel cinema dei telefoni bianchi, nel primissimo neorealismo, era la protagonista di Ossessione, la prima regia di Visconti, assieme a Massimo Girotti, che peraltro presentava delle analogie con Il Postino, suona sempre due volte. Qui Clara Calamai, doppiata per l'occasione da Isabellini, interpreta una vecchia attrice che poi, appunto, si scopre essere la responsabile dei vari omicidi. L'analogia che mi ha ricordato è Viale del Tramonto, io direi che Clara Calamai è Gloria Swanson, fondamentalmente. In Viale del Tramonto c'era una vecchia attrice rinchiusa nei suoi vecchi ricordi, peraltro era un film anche molto metacinematografico, no, Viale del Tramonto, perché c'erano delle sequenze in cui Gloria Swanson, Norma Desmond nel film, riguardava alcune sue pellicole risalenti al muto, che in realtà erano delle vere e proprie spezzoni di pellicole interpretate dalla vera Gloria Swanson. Qui in Profondo Rosso vediamo, a casa di Clara Calamai, delle fotografie ritraenti l'attrice da giovane con attori anche conosciuti di quel periodo, come ad esempio Vittorio De Sica, per cui c'è un giochino metacinematografico anche qui e fondamentalmente è la, diciamo, la raffigurazione della pazzia di una vecchia attrice. Quindi io fondamentalmente ci ho visto molto di Viale del Tramonto. La stessa scelta di chiamare Clara Calamai, che era un'attrice all'epoca quasi dimenticata, diciamo rinchiusa, confinata in un determinato cinema che ormai non esisteva più, insomma il cinema dei telefoni bianchi, eccetera, eccetera, secondo me non è affatto casuale. Ad ogni modo, oltre a Clara Calamai e Daria Nicolodi c'è un bellissimo cast di contorno, c'è il grandissimo Gabriele Lavia che fa una parte strepitosa, Gabriele Lavia è uno dei più grandi attori, secondo me, italiani a livello di teatro, per cui una grandissima parte è anche rimasta abbastanza nella memoria collettiva, e poi appunto Masha Merrill nel ruolo della sensitiva, protagonista di questa celeberrima ormai sequenza di apertura in cui avverte una presenza maligna, una presenza diabolica perversa tra il pubblico la stessa sera prima di essere assassinata. Per cui una delle sequenze più celebri che aprono l'intero cinema di Dario Argento, peraltro dominata da queste tinte scarlatte che hanno poi contribuito alla scelta del nome del film. In questo film è importantissima la colonna sonora, ne abbiamo appunto parlato prima, i Goblin oltre a comporre il celeberrimo tema principale del film che è entrato nell'immaginario collettivo, sono anche stati bravissimi, secondo me, a comporre i singoli temi musicali che accompagnano le determinate sequenze. C'è una bellissima scena ambientata appunto a Villa Prescott con David Emmings che nottetempo si infiltra in questa villa facendo anche una scoperta molto importante poi ai fini della trama mirabilmente sottolineata appunto dalle musiche dei Goblin. Per cui insomma i Goblin sono secondo me efficacissimi e hanno secondo me dato una spinta molto moderna al film soprattutto in diciamo in confronto appunto alle opere analoghe di quell'epoca. C'è un grandissimo Eros Pagni che interpreta il diciamo il commissario della situazione è la nota comica diciamo del film, Argento in tutte le sue regie ci diciamo in qualche modo intromette ecco delle note ironiche che in qualche modo servono ad alleggerire la tensione, qui l'umorismo è assicurato da Eros Pagni, grandissimo attore e anche grandissima voce del cinema italiano, uno dei più grandi doppiatori tuttora in funzione diciamo, grandissimo grandissimo volto. Anche qui ci sono alcune insomma incongruenze a livello di trama, sappiamo che le incongruenze contribuiscono, le incongruenze dei film di Dario Argento contribuiscono a restituirne il fascino e in qualche modo ci catapultano nel mondo argentiano, quindi nell'universo argentiano ci sono insomma alcune incongruenze come David Emings all'inizio che tocca così liberamente il cadavere di Masha Merrill dopo appunto essere stato uccisa mentre invece nella sequenza dopo vediamo appunto la polizia prendere i vari rilevamenti oppure una sequenza in cui l'assassino si infiltra direttamente in casa di David Emings naturalmente per minacciarlo con Emings paralizzato dalla paura quando invece insomma avrebbe tranquillamente potuto affrontarlo essendo un uomo adulto ecco nulla vietava un affronto fisico, una collutazione fisica invece rimanere così paralizzati dalla paura forse non non è non è proprio così scontato quindi qualche qualche incongruenza c'è ce ne sono anche altre durante 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 il film però tutto sommato comunque è un una diciamo una particolarità ecco che contribuisce ad instillare fascino nella nelle regie argentiane. La scenografia peraltro è ottima è passato in in qualche modo all'immaginario collettivo questo questo bar che Argento fece fece creare proprio in questa insomma scenografia riguardante questo bar che Argento fece creare in piazza CLN ispirato ad un celebre dipinto di Edward Hopper peraltro un bar anche piuttosto importante no nel nel film perché insomma vediamo ambientate nelle nelle immediate vicinanze alcune sequenze della della pellicola anche molto importante alcuni scambi di battute tra Emings e Gabriele Lavia per cui peraltro una una scenografia ecco molto azzeccata anche una buona costruzione a livello di fotografia a livello di luci l'omicidio della della righetti mi pare fosse la la calandra l'attrice adesso non ricordo bene il nome dell'attrice vi insegnerò poi tutto in in descrizione del video appunto ricorda per tensione ma anche per costruzione della fotografia delle luci eccetera eccetera una celeberrima sequenza tratta dei tre volti della paura diretta da Mario Bava peraltro a me me l'ha abbastanza ricordata quindi insomma che cosa dire non è né da consigliare né da non consigliare profondo rosso perché è uno dei 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 capisaldi del cinema italiano è un film che ha rivoluzionato il il modo di fare thriller e più in generale il modo di fare cinema per cui una visione è quasi obbligatoria di questo capolavoro io credo che tutto sommato la la tensione del film sia tutto sommato rimasta intatta ci sono dei dei movimenti di regia molto interessante gli effetti speciali peraltro curati anche da Carlo Rambaldi non sono invecchiati poi così male per cui il film secondo me risulta godibile anche anche ora seppur appunto c'è quel particolare iniziale di cui vi dicevo secondo me il film può potenzialmente perdere tanto se rivisto in dvd perché è tutto basato sui ricordi dello spettatore se lo spettatore torna indietro e si riguarda quella scena chiave appunto iniziale una seconda o una terza volta rischia automaticamente di spoilerarsi da solo tutto tutto il il fascino e la tensione di questo film però io naturalmente non non posso fare altro che consigliarvelo rimane sempre un un grande film di cui fa grande piacere appunto parlarne e disquisirne certo di aver dimenticato tantissimi altri particolari vi chiedo a voi che cosa ne pensate di questo profondo rosso se lo giudicate nettamente superiore alla trilogia degli animali oppure se lo mettete quasi allo stesso piano se è veramente il vostro preferito di dario argento oppure siete siete più legati ad altre sue regie e insomma in linea di massima parliamone assieme perché sono assolutamente curioso di sapere il vostro parere a riguardo per il resto io vi ringrazio come sempre per l'ascolto e ci rivediamo a voi piacendo al prossimo video ciao a tutti